L'Agenzia regionale del lavoro e apprendimento in Basilicata, istituita allo scopo di affidare ad un unico soggetto l'attuazione delle politiche in materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro, continua ad essere ancora senza guida. Lo evidenziano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Leggeri, Perrino e Carlucci, secondo i quali le funzioni del direttore generale sono indefettibili, soprattutto in questa fase post-emergenziale, in quanto occorre porre in essere tutti gli strumenti necessari per innescare una virtuosa ripresa economica, per sostenere l'occupazione anche attraverso le politiche attive del lavoro e il rafforzamento delle strutture fisiche dei centri per l'impiego. I consiglieri regionali stigmatizzano il modo di operare della maggioranza del centro-destra. Non dare corso al piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e di conseguenza alla pubblicazione dei relativi bandi di concorso, concludono, significherà non poter assumere le risorse umane fondamentali per portare avanti le strategie delle politiche attive del lavoro. Grazie.